La madre dei mostri Mi sono ricordata di quella storia orribile e di quella donna orribile, vedendo passare l'altro giorno su una spiaggia prediletta dai ricchi una signora di Parigi molto nota, giovane, elegante, affascinante, corteggiata e rispettata da tutti. La mia storia risale a molti anni fa, ma certe cose non si dimenticano. Avevo ricevuto l'invito da un amico per trascorrere con lui qualche giorno in una piccola città di provincia. Per farmi gli onori del paese egli mi portò dappertutto. Mi mostrò i panorami più celebrati, i castelli, industrie, rovine. Mi mostrò chiese e monumenti, vecchie porte scolpite e alberi di eccezionale grandezza o di forma insolita, la quercia di Sant'Andrè e il tasso di Riquetboas. Quando ebbe esaminato con esclamazioni di entusiasmo tutte le curiosità locali, il mio amico mi dichiarò con un viso mortificato che non c'era più niente da vedere. Respirai. Avrai dunque potuto respirare un po' all'ombra degli alberi, ma all'improvviso gridò «Ah, abbiamo la madre dei mostri, la devi conoscere». Chiesi «Chi, la madre dei mostri?» Mi spiegò. È una donna abominevole, un vero demonio, un essere che mette al mondo ogni anno volontariamente figli deformi, orrendi, spaventosi. Insomma, dei mostri che vende ai gestori di baracconi delle fiere. Questi abietti impresari vengono periodicamente a domandare se le è nato qualche nuovo mostriciattolo e, se il soggetto è di loro gradimento, lo portano via pagando una rendita alla madre. Ha undici rampolli di questo tipo. È ricca. Credi che scherzi, che inventi o esageri? No, amico mio, non ti racconto che la verità, l'esatta verità. Andiamo a vedere questa donna e poi ti dirò com'è diventata una fabbrica di mostri. Mi accompagnò alla periferia. La donna abitava in una bella casetta sul bordo della strada. Era graziosa e tenuta con proprietà. Il giardino, pieno di fiori, spargeva profumi nell'aria. Sembrava la dimora di un notaio ritiratosi a vita privata. Una domestica ci fece entrare in una specie di salottino campagnolo e la strega fece il suo ingresso. Aveva una quarantina d'anni. Alta, dei lineamenti duri ma ben fatta. sana e piena di vigore. Il vero tipo della contadina robusta. Metà brutto e metà femmina. Lei era nota la riprovazione da cui era circondata e riceveva la gente con astiosa umiltà. Chiese, cosa vogliono da me, sti signori? Il mio amico rispose, mi hanno detto che il vostro ultimo nato era normale e non rassomigliava ai fratelli. Volevo esserne certo. È proprio vero? Si rivolse un'occhiata ambigua e fuoribonda e cominciò, oh no, 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 per niente. Poro signore, questo è ancora più brutto degli altri. So sfortunata, so proprio sfortunata. Tutti così, poro signore. È una pena. Ma come può essere che Dio sia tanto infame con appara donna solo al mondo? Parlava in fretta, con gli occhi bassi, l'aria ipocrita, simile a una belva impaurita. Cercava di addolcire i toni aspri della voce. Ed era stupefacente che quelle parole racrimose e flautate in falsetto uscissero da quel gran corpaccione ossuto grossolano, fatto per gesti violenti e per urlare come una lupa. L'amico gli chiese, vorremmo vedere il piccino? Mi sembrò che arrossisse. Forse mi sono sbagliato. Dopo attimi di silenzio, ella disse a voce più alta. A che servirebbe? Aveva sollevato il capo. Ci squadrava con rapidi occhietacce da incenerirci. Il mio compagno insistette. Ma perché non ce lo volete mostrare? So che a qualcuno l'avete fatto vedere. Sapete di chi parlo. Ella ebbe un sussulto e, togliendo ogni freno alla voce e all'ira, si mise a urlare. Dite un po', siete venuti per questo? Per insultarmi? Per chi i figli miei so come bestie, vero? Non ve li faccio vedere, no? Non ve li faccio vedere. Andate via, andatevene. Che avete tutti quanti per darmi sti tormenti? Ci veniva avanti, con le mani sui fianchi. Al suo scoppio di voce, dalla stanza vicina rispose una specie di lagna, o meglio, di miagolio. Rabbrividì. Arretravamo di fronte a lei. L'amico replicò con tono molto serio. Attenta, diavola, la gente la chiamava così. Attenta! Un giorno o l'altro farete una brutta fine. La donna cominciò a tremare di furore, sconvolta. Mostrava i pugni e urlava. Andate via! Che fine dovrei fare? Andatevene, schifosi miscredenti! Stava per graffiarci in viso. Ti siamo ecclissati col cuore in gola. Appena fuori l'amico mi chiese «Visto? Che te ne pare?» Risposi «Raccontami la storia di questa bestia umana». Ed ecco quel che mi raccontò, mentre tornavamo passo passo sulla strada bianca, bordata da messi già mature, che un venticello, quando soffiava intervalli, faceva leggermente increspare con me in bonaccia. Quella donna era stata a servizio in una fattoria molti anni prima. Era operosa, onesta ed economa. Non aveva l'innamorato. Non si poteva neanche supporre che fosse civetta. Fece quel che fanno tutti. Una sera di metitura tra i comuni falciati, sotto il cielo temporalesco, quando l'aria immobile e pesante sembra invasa dal calore come d'una fucina e impregna di sudore i corpi abbronzati dei giovanotti e delle ragazze. Si accorse presto ad essere rimasta incinta, e si sentì tormentata dalla vergogna e dal timore. Voleva nascondere a tutti i costi quel che le era capitato. Si serrava il ventre con un tremendo sistema che aveva escogitato, una specie di camicia di forza fatta di assicelle e di corde. Più si ingrossava la sua pancia col progredire della gravidanza, più lei stringeva quel vero strumento di tortura, penando sofferenze da martire, ma resistendo dagli spasmi e mostrandosi sempre alacri e sorridente, senza lasciar capire o sospettare niente. Storpiò nelle povere viscere la creatura, nella costrizione di quella macchina orrenda. Lo compresse, lo deformò. Ne fece un mostro. Il cranio schiacciato si allungò, si appuntì, gli occhi enormi uscivano dalle orbite. Gli arti stritolati contro il busto si svilupparono con torti come tranci di vite. Si allungarono in modo abnorme, terminando con dita simili a zampe di ragno. Il torso rimase piccolo e rotondeggiante, come una noce. La donna partorì in un campo, una mattina di primavera. Quando le lavoranti accorsero in suo aiuto e videro quale mostro le stava uscendo dal corpo, fuggirono terrorizzate. E in paese si diffuse la voce che aveva messo al mondo un demonio. Da allora la chiamano diavola. Fu licenziata, visse delle mosina e forse d'amore nascosto. Era una bella ragazza e non tutti gli uomini hanno paura dell'inferno. Allevò il suo mostriciattolo, che d'altra parte odiava, di un odio selvaggio, tanto da strangolarlo se il curato, prevedendo quel delitto, non l'avesse spaventata con la minaccia dell'intervento della giustizia. Ebbene, un giorno alcuni proprietari di baracconi da Fiera passarono da queste parti, sentirono parlare dello spaventoso mostricino e domandarono di vederlo con l'intenzione di scritturarlo. Lo trovarono adatto ai loro scopi e versarono alla madre 500 franchi in contanti. Lei da principio si era vergognata e non voleva vedessero quella specie di bestia, ma quando si rese conto che poteva valere del denaro, che eccitava il desiderio di quelle persone, cominciò a mercanteggiare, a discutere soldo a soldo, invogliandoli col mostrare le deformità del figlio, alzando il prezzo con la testardaggine del contadino. Per non essere truffata, fece con loro un regolare contratto. Quelli si impegnarono a versarle in più 400 franchi all'anno, proprio come se avessero preso il mostro al loro servizio. Quel guadagno sperato fece quasi uscire di senno la donna e da quel momento il desiderio di mettere al mondo un altro fenomeno e farsi una rendita come una brava signora borghese non l'abbandonò più. Poiché era feconda, riuscì nel suo scopo e diventò molto brava, pare, nel variare le forme dei suoi mostri, cambiando le pressioni che faceva subire loro durante il tempo della gravidanza. Ne partorì così di lunghi e di corti, alcuni simili a granchi, altri a lucertole, parecchi morirono ed ella ne fu molto afflitta. La giustizia cercò di intervenire, ma non fu possibile appurare niente e così la lasciarono fabbricare in pace i suoi fenomeni. Attualmente ne ha undici, vivi e vitali, che in media le rendono 5 o 6 mila franchi all'anno. Uno solo non è ancora collocato, quello che non ha voluto farci vedere, ma non rimarrà per un pezzo con lei, in quanto è ormai conosciuta da tutti i saltimbanchi del mondo che ogni tanto vengono qui a vedere se la diavola ha qualche cosa di nuovo. Riesce a fare delle vere e proprie vendite all'asta quando ha un soggetto che ne valga la pena. L'amico tacque. Sentivo dentro di me un disgusto profondo e anche un'ira tumultuosa. Il rammarico di non aver strangolato quella belva mentre l'avevo a portata di mano. Chiesi, ma il padre, chi è? Mi rispose, e chi lo sa? Deve essere uno che ha un certo pudore. Si tiene nell'ombra, forse si dividono gli utili, forse i padri sono diversi. Non pensavo più a quell'episodio di anni fa quando l'altro ieri su una spiaggia alla moda ho visto una donna elegante, dotata di gran fascino e civetta, amata e circondata da uomini che la rispettano. Camminavo sulla massicciata a braccetto con un amico, il medico della stazione balneare. Deci minuti dopo vedi una governante che sorvegliava tre ragazze accoccolati sulla sabbia. Fui colpito da un paio di stampelle che erano a terra. Allora mi resi conto che i tre bambini erano deformi, gobbi e lachitici, orribili a vedersi. Il medico mi disse sono i frutti della bella signora che abbiamo incontrato poco fa. Una profonda pietà per essi e per lei mi invase il cuore. Esclamai, povera donna, ma come mai riesci ancora a fingere gaiezza? Il mio amico replicò non compiangerla, caro amico. Da compiangere sono soltanto i suoi poveri figli. Questi sono i risultati della linea mantenuta ad ogni costo fino agli ultimi giorni prima del parto. È il busto che ha fabbricato quei mostricini. Lei sa fin troppo bene che così rischia la vita. Ma che le importa pur d'essere sempre bella e amata? E così mi ricordai dell'altra, della contadina, della diavola che lei li vendeva ai suoi fenomeni.